Sono 186.740 positive test covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia su 1.397.245 tamponi effettuati, con un tasso di positività che si attesta al 13,3%. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 468 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 20.027, sono 1.694 i pazienti in terapia intensiva.